sì 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 certo no 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 vai tranquillo non c'è problema certo no ma non ti preoccupare figurati se non riesci richiamami che non c'è problema no vabbè lo so dai ok va bene ciao ciao no no Fabio questo aggiornamento è terribile è partito l'ultima volta due ore l'ultima volta me l'avevo fatto ieri perché tu devi farlo sempre a quest'ora ma roba che qua due ore partono è capitato anche a me ieri oh che faccio vogliamo fare una pausa ti apri un caffè ti va ho un'idea migliore vado a cancun fabio 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 eh chi è chi è chi è chi è mentre va l'aggiornamento guarda che sono arrivati i nostri clienti ti aspettavo giù vado